Quindi il FAI propone un'idea, propone un modello, propone un piccolo, virtuoso esempio per vivere in maniera civile nel paese più bello del mondo, che è naturalmente l'Italia. Quindi naturalmente ci appelliamo a chiunque, lei si può iscrivere, Edison ci supporta dal 96 con delle iniziative delle quali tra poco parliamo, sono ormai 180 mila gli iscritti al FAI. Quindi ecco, se questo messaggio circola, è un qualcosa che fa bene all'Italia. E siccome circola siamo contenti, quindi Edison, ripeto, dal 96 appoggia il FAI e ultimamente con questo grande progetto di efficientamento energetico ci aiuta non soltanto a raccontare che l'Italia ha bisogno di qualcuno che si occupa dei suoi beni culturali, della sua storia, ma anche del modo corretto di gestire i beni culturali, la sua storia e quindi di rapportarsi alle grandi emergenze del paese. Una naturalmente è l'emergenza energetica. Quindi dietro gli ori, gli stucchi, le librerie, i libri, tutta la meraviglia, ci deve essere una macchina che risparmia, che funziona, che rende. E allora l'esempio è virtuoso e serve. Altrimenti se costasse, evidentemente se non funzionasse sarebbe un bluff. Ma invece la macchina funziona proprio grazie a imprese come Edison che credono nel FAI e quindi il FAI riesce a fare quello che vuole fare.